Allora, seconda parte della jam Mi sarà arrivati alla battuta numero precisamente 12, che comunque facciamo un attimo un riepilogo di quello che abbiamo visto finora. Allora provo a risuonare. Fino qui. Allora, dodicesima battuta, avevamo detto nove ottavi, quindi è la, diciamo, la scansione ritmica che mi sembrava più giusta a scriverla, anche se, ripeto, è un brano talmente, come dire, libero di tempo che è un po' impossibile scriverla perfettamente, però, diciamo, la figura, cioè la figura, la scansione, la suddivisione della battuta l'ho sentita a nove ottavi, quindi un pa, pausa, nota, fa un, terzina, quindi la, suddiesis, fa diesis, fa naturale, sale su, ottavi dal re, do diesis, si naturale, e arriva a la della tredicesima battuta. Ecco, ripartiamo da qui, quindi di nuovo un quattro quarti, nota ghost, quindi la ghost, mi re, quindi dalla quarta torna sulla tonica, settima minore, settima maggiore. Settima maggiore può fare slide dal do naturale al si, do naturale, si, la, e chiude sulla terza maggiore, la quattordicesima battuta, sulla terza maggiore di mi, quindi. Suona più o meno così. Qui c'è una battuta di due quarti, almeno io l'ho interpretata in questo modo, e sull'ultimo movimento c'è la pausa di un'ottavo, poi questa appoggiatura, e sulla terza maggiore di nuovo, quindi riprendo dal fa diesis al sol diesis. poi sul primo movimento della quindicesima battuta, riscritta in quattro quarti, accento sul si naturale, e sol, caratteristica, diciamo, della pentatonica minore di mi, quindi l'utilizzo della terza minore sull'accordo, su un accordo, diciamo, immaginario, di mi maggiore. Dal si scende, quindi sol, fa diesis, mi, do diesis, fa diesis, mi. Molto musicale questa frase. Poi, un'altra battuta ai nove ottavi, parte dal sol diesis, quindi terza maggiore all'ottava sotto, la naturale a vuoto, almeno io la prendo a vuoto, quindi quarto, quarto, ottavo, si appoggia a la diesis, chiamiamolo così, perché se non è un senso ascendente, quindi non suona proprio corretto. La battuta a dire i nove ottavi suona così. quindi si, e la diesis si, slide, diciamo, di nuovo si, e poi arriva al do diesis, quindi un'altra battuta ai quattro quarti, la diciassettesima, quindi la diciassettesima battuta, io la sento così. Qui ci si può mettere sul secondo ottavo, sia un agosto, oppure ci sento un me a vuoto, suonato, diciamo, un po' più fantasma, un po' più nota, non si sente bene, se è una ghost o una nota, comunque, io ho scritto la nota tra parentesi, che sembra una specie di ghost, appunto, fa do diesis, ghost, re naturale, ghost, due ottavi di re diesis, quindi la settima maggiore, e due di mi, quindi la tonica, e poi ho scritto una battuta di tre quarti, la stessa cosa di prima, quindi, dal fa diesis al sol diesis, però ottavo, ottavo, con la legatura, e me a vuoto. Qui parte la frase che ripete sette volte, addirittura, vediamola, allora, siamo alla battuta numero diciannove, quattro quarti, molto lentamente, inizia con un'acciaccatura, quindi, la notina piccola, con la, cosino che, col disennino, diciamo, sbarrata, suona così, quindi, ancora, fa diesis, sol diesis, quindi, seconda e terza maggiore, qui è fondamentale, dividerla, questa frase, a pezzettini, impararli, perfettamente, uno dopo l'altro, e poi, comporgli insieme, si appoggia sul C, un po' come prima, appunto, ghost scende sul fa diesis, ghost scende sul do diesis, quindi io prendo tutto sul quarto tasto, diciamo, come dico sempre, da mettere in loop, assolutamente, questa frase, partire lentamente, e la battuta successiva, quindi, la numero 20, re, quindi settima minore, due ottavi, due ottavi di re diesis, settima maggiore, mi, ghost, quindi tutta ottavi, posto diesis, mi a vuoto, tutta ottavi, re, 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 re diesis, mi, ghost, sol diesis, mi, tutta insieme, lentamente, viene così, quindi, ripeto sei volte, questa identica frase, e alla settima, sono sette in realtà, alla settima, e invece di continuare la frase, passo la, quindi siamo alla battuta 22, la vuoto, come sempre, io la prendo a vuoto, ghost, anche qui, tutta ottavi, la, 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 si, la diesis, la, ghost, la diesis, la diesis, si, 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 la diesis, si, si, battuta, battuta 22, la 23, ancora ottavi, la prima più staccata, fa diesis, fa diesis, mi, fa diesis, mi, poi sull'ultimo ottavo, c'è un me a vuoto, che manda sul, sulla terza maggiore, della 24esima battuta, ancora ottavi, ancora, sol diesis, ghost, la, io prendo a vuoto, la diesis, le creatura, si, si, l'ultimo quarto, è un do diesis, sento staccato, quindi, venticinquesima, quindi fa diesis, fa diesis, mi, fa diesis, poi una pausa di un ottavo, e poi c'è un'altra due note molto suonate con una bella dinamica, con l'accento, quindi siamo sulla settima, sulla sesta maggiore, do diesis, si, mi, la, la, quindi il ventisesimo battuta, due ottavi di la, pausa, pausa, si, fa diesis, fa diesis, mi, sol diesis, e poi torna sulla quinta, passando dal do diesis, quindi due ottavi di do diesis, e si, si conclude questa frase, quindi tutta, più lentamente, poi battuta 28 inizia un'altra frase, diamo un altro pezzettino, poi mi fermo, e faremo una terza, ghost, mi, a vuoto, quindi tutti ottavi, ghost, mi, a vuoto, sol naturale, mi, a vuoto, sol diesis, ghost, la, si, la diesis, e quella dopo, quindi, la, sette ottavi, la ventinovesima battuta, sento così, quindi, si, si, do diesis, mi, a vuoto, re, mi, la, lentamente, la trentesima, una delle più, diciamo, complicate, la faccio molto lentamente, c'è un'altra appoggiatura, acciaccatura, insomma, da do diesis a re, quindi, sesta maggiore, settima minore, poi, una terzina, che io prendo, con re a vuoto, quindi, primo ottavo, e, praticamente, un re, con la notina prima, a terzina, mi, mi viene più comodo, prenderla con re a vuoto, e a re, fa naturale, quindi, una nona, bemolle, riferita a mi, sol diesis, quindi, terzi maggiore, poi, due ottavi, con l'accento, i do diesis, sesta maggiore, e, nuovo, la diesis, fa largo uso, quindi, della quarta, aumentata, quindi, la battuta intera, vediamo, e chiude la frase con, si, mi, la diesis, mi, do diesis, mi, si, mi, tutti e ottavi, quindi, la trentaduesima, c'è il la sul primo quarto, con la, che lo lascia, suonare, fa primi armonici, quindi, sarebbe, sul quarto tasto, la corda di la, di re, e di sol, quindi, sarebbe come se suonasse un accordo di mi, sesta, nona, chiudiamo la sesta, la, la nona, appunto, e la quinta, si può vedere anche come un do diesis, minore settima, con l'undicesima, poi, di nuovo, mi avvuoto, cambia battuta, lo prendo qui, così, mi continuano a suonare questi, questa volta, però, gli armonici sul nono tasto, sono uguali a quarto, però, almeno, ripeto, continuano a suonarmi questi, questa volta, di la e di mi, cioè, le corde di la e di mi, quindi, come note, abbiamo do diesis, e so diesis, sempre tenendo il mi a vuoto, quindi, si può vedere come un mi sesta nona, mi sesta, mi settima, con la diesis nona, questo è un po' quello che si crea suonando questi armonici qui, allora, qui mi fermo, e, siamo arrivati più o meno, grosso modo, più della metà, della, della gem, e, quindi, nella terza parte, abbiamo tutta, tutto il finale, diciamo, di, di questo meraviglioso brano, quindi, allora, al prossimo video.